amici ed amiche del canale un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro primo appuntamento con la serie car detailing simulator come sempre ringrazio gli sviluppatori per avermi concessa la key di questo gioco e naturalmente saluto e ringrazio l'amico moreno l'amico aleasso e tutti voi naturalmente che vi siete iscritti al canale e che vi siete anche dis iscritti ma detto questo però iniziamo subito questa esperienza vi parlo di come sono venuto a conoscenza di questo giochino praticamente ho provato la versione demo di questo gioco e praticamente l'ho trovato interessante quindi ho deciso di portarlo e vedere un pochettino se vi garba mi raccomando fatemelo sapere lasciando un bel laicuzzo ah yeah cosa ha perso ecco qua nel frattempo che inizia a caricare ho già caricato allora vi stavo dicendo che l'ho provato già la versione demo e sinceramente mi è piaciuto un giochino interessante allora prima cosa apri e il telefono con il telefono con il tasto sinistro ok quindi tasto c e solleva il telefono apri e chiudi ok oh mamma mia come sta sporca sta macchina macchinuzza a mappa comandi base allora vediamo un po' premici premici per accovacciarti ok e solleva il telefono si deve il telefono che significa cerchiamo gli attrizi ecco qua andiamo pulisci l'interno lave i vetri dell'auto ah stanno qua eccoli qua oh entra premici premici ecco accedi poi scusa il tutorial non si può saltare scusami allora comandi base premici ok ho visto qualcosa ah eccolo il telefono ah no andava al manicomio ecco qua tieni premuto barra spazio per stare sulla punta dei vieti shift cammini per accelerare tab per aprire il registro ok tutorial ok guardati intorno strumenti di pulizia oh finalmente ecco qua ecco qua vai allora adesso premere la rotellina per aprire il menu dopo di che dobbiamo andare in attrezzatura ecco qua allora premi tasto sinistro ok salta il video tutorial ah ovviamente se qui mancate un pezzettino non vi fa andare avanti e quindi bisogna essere molto precisi come il nostro morenaus hashtag morenaus che lo salutiamo naturalmente e a proposito di amici eh saluto mister ah yeah yeah ovvero l'amico Aleasso che vi invito se volete acquistare prodotti a prezzi vantaggiosissimi visitate il link che vi lascio in descrizione alle asso shop mi raccomando acquistate con fiducia così come vi invito anche ad acquistare e visitare il sito www.ipianibio.it allora premi il tasto destro per vedere lo espuercos apri e chiudi ok tutto chiaro stiamo facendo lo schiumaparty hashtag schiumaparty vai moreno fammi vedere se sei altrettanto bravo tu con gli hashitaki apri il cofano ah no qua dobbiamo fare l'insaponato all'interno apri aprisci ah giusto dobbiamo anche sistemare le portiere qua giusto apri mister ah yeah yeah ragazzi mi raccomando andate a visitare il suo shop e acquistate con fiducia apri poi andiamo avanti sporco attualmente allora usa il tasto sinistro qua se non se non lo becchiamo per l'intero allora ragazzi dopo aver smanettato un pochettino sono riuscito a trovare la soluzione quindi adesso diamoci di di lancia qua e andiamo ad acquistare anche noi da le asso shop che naturalmente vi metto nel nella descrizione del video vi lascio il link del suo shop così come inserisco anche il link del canale del nostro moreno che saluto naturalmente e che ringrazio della sua compagnia che ogni tanto mi sono fischiate le orecce mi fischiavano le orecci in questo periodo e so che è stato house house more house quindi come vi ho detto all'inizio bisogna essere molto ma molto precisi qui o altrimenti non finirete mai la missione allora il tasto c per abbassarci qui dobbiamo utilizzare i prodotti per gli interni che acquisteremo dall'ale asso shop alle asso shop ecco qua allora abbiamo dice lava i vetri fuggiamola di di sciacquarla per bene altrimenti rischiamo che poi ci dice che siamo troppo approssimativi e non ci fa andare avanti con la mission ok tasto destro ecco qua vedete le macchie rosse indicano i punti dove noi non siamo passati premiamo il tasto destro del mouse house house voilà credo di averla pulito per bene ok allora apri l'attrezza ora dobbiamo prendere il panno ehm panno no ottimo lavoro completa il set della scaffalatura ok set per finestrini ecco vediamo un po' allora qui mi sembra pulito ok adesso dobbiamo passare alle finiture quindi dobbiamo prendere quest'altro kit ok finiture allora questa è pulizia dell'interno ci spiega un po' come si fa quindi lo spray questo è quello lì per per togliere lo spray mangia polvere quindi apriamo il menu ecco qua schiuma aperta a pezzeria schiumeggia perché se la schiuma schiume cia saldo anche l'amico macho king 82 e tutti gli amici e le amiche del canale di twitch e di youtube se vi va fate anche un saltino all'altro mio canale personale dove troverete un altro tipo di contenuti insomma video musicali vecchi che ho realizzato e poi troverete anche alcune interpretazioni di poesie scritte da me ok andiamo avanti questo c'è l'aspiratore sì tasto destro e vi farà vedere dove dovete passare vedo che il tempo a nostra disposizione sta volando via ragazzi quindi termineremo questo primo passaggio poi andremo avanti con questa serie mi raccomando se vi piace questo questo giochino lasciate un bel like al video così poi io vi porterò ancora i contenuti di questo video ringrazio ancora una volta gli sviluppatori del gioco per avermi concesso la chiave del gioco ovviamente questo gioco lo trovate su steam e anche su altre piattaforme allora ok usa allora dobbiamo premere prima esatto prima la schiuma questo si chiama amo amo mi viene in mente amio il mitico moreno che saluta naturalmente allora chiudi la sportella questa è la futura automobile del nostro vorrei una chiesa anche di mister aiaiaia mi raccomando visitate il sito internet alle asso shop visitate da acquistare perché troverete tante tante cose interessanti con offerte super 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 convenienti alle asso non vi dico non vi spoilerò il claim che ho iniziato a pensare per il suo canale il claim naturalmente lo troverete nel mio canale personale fabrizio tab 2 se vi va passatemi a trovare e lasciate un commento sotto uno dei miei contenuti andiamo avanti dai vediamo un po' se siamo riusciti a fare questa situation eh l'ho detto ragazzi è molto pignolo hashtag pignolaus ma qua non abbiamo finito ancora niente ragazzi non vorrei dirlo ma uh ma questa sta una zozzo sta fatta sto lavoro eh uh ah ecco me l'ho dimenticata di uh fammi pulire anche l'altro specchietto ok allora pulisci l'interno pulisci l'interno set per interni cosa che abbiamo mancato andiamo un po' forse dobbiamo allora andiamo un po' tasto destra allora prendiamo la nostra ah cestino per i rifiuti eh andiamo un po' forse è questo andiamo un po' allora andiamo un po' dove sta il cestino allora ragazzi io direi di fermarci qui per questo ehm video naturalmente fatemi sapere se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e naturalmente ci vediamo al prossimo video ciao ragazzuoli ciao a tutti ciao 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 a tutti